Assessore Pantalone, quali sono i primi risultati dell'osservazione emersa al Tavolo del Commercio? Sì, abbiamo costituito questo osservatorio del commercio cittadino insieme alle associazioni di categoria, ricependo quella che è stata una loro istanza, ma perché ne condividiamo il perimetro. Ossia è importante, non soltanto in fase di monitoraggio, ma soprattutto di programmazione, avere idea di quello che è lo scenario nella nostra città rispetto a quello che è il quadro nazionale, ma rispetto a quelli che sono gli indicatori che provengono dall'associazione di categoria, per studiare tutti gli aggregati, per comprendere quelli che sono i consumi nella nostra città, quello che è il numero delle attività presenti, quello che è anche l'aspetto legato alla domanda. Devo dire che già all'interno di questa riunione del Tavolo Tecnico del Commercio, nel quale abbiamo costituito questo osservatorio, sono arrivati dei primi dati confortanti, segnatamente i dati del Centro Studi Nazionale della Conf Commercio, che certificano come la nostra città stia, dal punto di vista del numero di attività presenti in centro storico, avanti a tante altre realtà simili alla nostra. Penso per esempio ad Ascoli Piceno, dove noi abbiamo 174 attività in centro storico contro le 133 di Ascoli, piuttosto che in linea con le altre realtà abruzzesi. Questo ci induce ad avere sicuramente un clima di fiducia. Sappiamo che il momento è di ripresa, sappiamo che la congiuntura non è proprio delle migliori, ma noi, dal punto di vista di quello che è la nostra realtà, e questo ci fa capire che stiamo lavorando nella giusta direzione, sia attraverso le iniziative strettamente commerciali, che stiamo portando avanti con il mio assessorato e insieme al nostro sindaco, sia per quelli che sono gli eventi in città con il collega De Cesare che ci sta lavorando in maniera assidua, vuol dire che tutto questo sta portando indotto, sta portando al tessuto economico della nostra città degli importanti benefici e sappiamo che dobbiamo continuare su questa strada.